Siamo pronti per divertirci, sempre la prima cosa è divertimento. Raffaele, vieni, spirito di aggregazione, divertimento con il presidente Fico, il nostro staganoista di queste competizioni, sempre presente, sempre presente. Sono amici di là, quindi... Sì, sì, dopo intervistiamo anche loro. Chi manca? Manca i giocatori che... Presidente, ma questo bomber Ravino avanti, come lo vedi? A fiduci più competizione, l'abbiamo ingaggiato. Avanti sì, in porta ci vuole la moneta. Come lo vedi allora? Come la vedi questa squadra? Pronta per questa competizione? La mia, la mia, siamo carichi, siamo carichi. Come lo vedi tramontano in porta stasera? Sempre la grande, numero uno della nostra squadra. Oh, qua ce la buttavo per te via. Ehi, va... No, le possiamo imparare. No, non c'è male, non c'è male come prima volta. Presidente, un primo tempo difficile perché siete 5 contati, però 1-0. Sì, era anche normale. Stiamo patitando. Abbiamo la fortuna di essere un po' esperti dell'aspetto avversario. Stiamo usando un po' l'esperienza. Stiamo avversari. Stiamo avversari. Siamo avversari. Stiamo avversari. Stiamo avversari. Stiamo avversari. Stiamo avversari. Stiamo avversari. c'è un pallone No!